Allora, giovani e belli, la Svezia seconda parte, ovvero popolazione ed economia. La Svezia seconda parte, popolazione ed economia. Eccola la Svezia in tutto il suo splendore. Torniamo al nostro paragrafo del libro, in cui la prima cosa che ci viene detta, ma sono tutte cose che vi ho già accennato, è che la densità è molto bassa, cioè il totale degli abitanti della Svezia è di quasi 10 milioni, quindi ci sono 22 abitanti per chilometro quadrato. Vi abbiamo già detto, vi ho già detto, che gran parte del territorio svedese è quasi inabitabile, perché vedete che cosa si dice qua? Gli svedesi possono vivere solo in poche aree del territorio a causa delle difficili condizioni climatiche. Al nord, le regioni settentrionali sono praticamente disabitate, la maggioranza della popolazione quindi vive lungo la costa nelle regioni del centro-sud, per cui è conseguenziale che il tasso di urbanizzazione sia molto alto, 85,7%. È bassa la natalità, come in Italia tra l'altro, compensata dalla rio di numerosi immigrati dall'Europa orientale, dei Balcani, dai Balcani e dal Medio Oriente. Tanto è vero che chi è il più famoso calciatore svedese dell'ultimo periodo? Come si chiama? Andersson, Swidersson, Skenderson? No, si chiama Zlatan Ibrahimovic, ovviamente di origine balcanica. Il nato è cresciuto lì, quindi è svedese, ma di certo non è alto, biondo e con gli occhi azzurri, e non si chiama Andersson. Gli svedesi comunque sono il 92,1% della popolazione, e ci sono due minoranze autottone, i Finni e i Lapponi, o Sami, va bene? Nelle zone nord soprattutto. La Svezia ha, come vi dice il libro, un sistema sociale molto avanzato. È una monarchia costituzionale, quindi c'è un re, ma c'è la divisione dei poteri, come in tutte le democrazie moderne. Il sistema sociale svedese è uno fra i più avanzati al mondo, assiste tutti i cittadini in più importanti ambiti della vita. L'istruzione pubblica è garantita, la sanità pubblica è garantita, la produzione sociale è molto avanzata. Gli investimenti nelle politiche sociali favoriscono quindi l'integrazione della popolazione e permettono di, diciamo, quasi eliminare disuguaglianze sociali. E questa spesa per il rubo alfago, ovviamente molto alta, è sostituita e finanziata da tasse sostenute, e finanziata da tasse molto alte, ovviamente in base al reddito che uno dichiara, cioè più guadagni e più paghi le tasse. La lingua ufficiale è lo svedese, ovviamente una lingua di origine germanica, e la religione più diffusa è quella cristiana protestante, lo state vedendo a storia in questo periodo. C'è anche un 4% di cittadini che praticano l'islam, ovviamente sono gli immigrati dalle regioni del Medio Oriente di cui si parla qua. Stoccolma è la capitale, 900.000 abitanti abbondanti, insomma, eccola qua, Stoccolma, la vedete in questa posizione qui, ok? È, come vi dice, una vivace città che ha un porto molto attivo, ricca di barchi a rieverdi, si trova sulla costa sudorientale fra il lago Malaren e il Mar Baltico. Ecco qua, il lago e il Mar Baltico, bene, ok. Il centro storico si chiama Gamla Stanet, è composto da stradine piccole medievali, sorge su un gruppo di piccole isole, sono collegate fra punti, e la contesto è bella da vedere, vi dice qua. Altre città importanti sono Goteborg, pronunciatela così, anche se loro la pronunciano a Iadebari, ok, ecco la Goteborg dalla parte opposta, nella costa opposta praticamente, bene, poi, in Goteborg quindi è il principale porto del paese, poi Malmo, che sempre più o meno si trova da quelle parti, ecco qui per all'estremo sud però, bene, e Uppsala, viene citata, Uppsala, dove c'è la più antica università svedese, come vedete sono 500.000, 300.000, 200.000 abitanti, come delle province italiane, Uppsala, eccola qui, questa non è sul mare, come vedete, ok. Allora, l'economia della Svezia è molto solida, è sviluppata, è addirittura in crescita, hanno un reddito pro capite fra i più alti d'Europa, nel settore primario abbiamo il 2,3% dei lavoranti, c'è una difficile condizione climatica, ma l'agricoltura è abbastanza elevata, cioè i terreni coltivabili non sono tantissimi, ovviamente, ma ci sono tecnologie avanzate, le produzioni più importanti sono cereali, patate, le barbabiellole da zucchero, e va bene, finché ci sono quelle, siamo tranquilli, molto diffusi gli alliementi di bovini e suini, nelle zone nord, dove vengono allevate invece le renne e altri animali da pellice, cioè tipiche di queste zone nordiche, la pesca ovviamente è praticata con abbondanza, soprattutto a largo delle coste occidentali, e ne abbiamo parlato l'altra volta, la Svezia, diciamo, ha una forte produzione di legname, e però fa sì che questa risorsa non vada esaurita, per cui ogni albero abbattuto bisogna piantarne un altro, va bene, e questo permette a Ikea di prosperare in tutto il mondo, il sottosuolo è ricco di materiali, di minerali come ferro, rame, piombo e zinco, l'energia elettrica viene, diciamo, prodotta anche da centrali idroelettriche e centrali nucleari. Nel settore secondario abbiamo il 20,4% di lavoratori, l'industria, quindi, e i più importanti sono il settore automobilistico, viene citata la Volvo, ma anche la Saab, è abbastanza nota come automobile svedese, poi il settore siderurgico, chimico, biotecnologico, canteristica navale, legno, ovviamente farmaceutico e telecomunicazioni, telecomunicazioni, vi ricordo che la Ericsson era fino a qualche anno fa la più importante produttrice di cellulari, ma la Ericsson fa anche tante altre cose, ora, ultimamente è stata acquistata dalla giapponese Sony, dopo la crisi dei cellulari, dopo dalla Rio degli smartphone. Nel terziario abbiamo oltre quasi l'80% degli occupati, per cui hanno un grande peso servizi commerciali e finanziari, è conosciuto in tutto il mondo per il design, soprattutto nell'arredamento della casa, richiamiamo sempre Ikea, ma insomma, tante altre cose evidentemente, e c'è anche una buona dose di turismo per le selvagge bellezze naturali. Ecco qui riproposto nello schematto l'economia in cifre della Svezia, quello che abbiamo detto fino adesso viene riassunto, c'è un approfondimento su appunto il welfare di cui abbiamo parlato, cioè il benessere sociale. In Svezia andare a scuola, avere un'assistenza medica, avere un'assistenza se non sia autosufficiente, è un diritto fondamentale ed è garantito a tutti i cittadini, in modo che tutti possano vivere in piena dignità politica e di welfare. La Svezia spende parecchi soldi per le politiche sociali. Qual è, diciamo, la conseguenza di questo? Un bambino svedese, quando nasce, sa, i suoi genitori sanno, che avrà dallo Stato la garanzia di un elevato livello di qualità della vita e un'ottima protezione sociale. Ogni nuovo nato riceve una serie di assegni e potrà spendere come meglio crede quando arriverà a 18 anni. L'istruzione è totalmente gratuita dall'infanzia all'università e di buona qualità. Docenti qualificati, ambienti scolastici efficienti e programmi motivanti. È un grande investimento per il futuro, garantisce alla Svezia la possibilità di avere i cittadini che se si studiano, che hanno studiato, hanno avuto ottime opportunità, eccetera, tutto quello che è scritto qua. Poi ha anche garantito la parità fra uomini e donne e alle donne che, diciamo, questo viene consentito grazie alla presenza di molti asili nido e servizi dedicati all'infanzia, quindi si possono occupare di lavoro e i padri pure possono concedersi dal lavoro per stare con i figli. Chi perde il lavoro ha sussidi di disoccupazione e progetti di reinserimento professionale, cioè la possibilità di trovare lavoro velocemente. Com'è possibile tutto questo? Prima, come abbiamo detto, gli svedesi sono, quanto i romani e i milanesi tutti insieme, quasi 10 milioni, e soprattutto le tasse sono molto alte e più guadagni, più paghi le tasse fino ad arrivare praticamente quasi al 50% del reddito e tutti le pagano, quindi questo consente di mantenere questi servizi sociali avanzati. Però c'è anche chi dice che è, diciamo, un po' disincentivo all'economia perché chi, diciamo, diventa ricco, più diventi ricco, più paghi le tasse, a un certo punto uno può anche arrivare a pensare ma chi me lo fa fare di lavorare così tanto e guadagnare tanti soldi se poi li do tutti allo Stato? Questa è la socialdemocrazia svedese. Non tutti sono convinti che dal punto di vista economico sia un meccanismo efficace, però, insomma, finché ci sono 10 milioni di svedesi pare che funzioni, ma un po' di crisi sta arrivando anche là, eh. Comunque, come vedete qua, per fare questo ci sono tasse elevate per un welfare universalistico. Tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, pagano le tasse e godono di questi diritti. Bene, per finire la Svezia c'è un approfondimento su uno dei prodotti svedesi più famosi nel mondo, dico prodotti si fa per dire, che è il famosissimo premio Nobel. Nobel, ok? Eh, scusami, non mi chiedo più. Ecco qua. Allora, Nobel è il cognome di uno scienziato svedese che si chiamava Alfred Bernard Nobel, nacque a Soccolma nel 1833 e fece tantissimi soldi inventando la dinamite, che era un esplosivo, praticamente, che si poteva usare, sì, in miniera per questioni di lavoro, per facilitare gli scavi, ma fondamentalmente era un'arma che veniva usata per creare distruzione. Quindi lui fece i soldi per questa ragione qua e a un certo punto, però, ebbe una crisi di coscienza. Scoprì, come vi dice qua il libro, che il mondo, praticamente, lo conosceva come un mercante di morte. Bene, cosa vi dice qua il libro? A un certo punto muore suo fratello e un giornale, pensando che fosse morto lui, fece questo titolo è morto il mercante di morte, fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili, più rapidamente, eccetera, di quanto non si potesse fare prima. Lui ci rimase molto male. Per evitare che la sua memoria rimanesse legata solo alla sua invenzione, la dinamite, a questo esplosivo, a questa arma micidiale, decise di lasciare tutti i suoi averi alla fondazione del premio Nobel, per cui un premio da assegnare ogni anno a coloro che avessero portato grandi benefici all'umanità. Quindi quasi tutti i suoi soldi furono, diciamo, assegnati a questo scopo e chi li gestisce ancora oggi li fa fruttare in modo che possa mandare avanti il premio Nobel. Ogni anno il premio Nobel viene assegnato a cinque ambiti differenti. Il Nobel per la fisica, il Nobel per la chimica, il Nobel per la medicina e il Nobel per la letteratura. E poi abbiamo il Nobel per la pace. Vengono tutti consegnati a Stoccolma, tranne quello per la pace che viene consegnato a Oslo e la giuria, la commissione, è norvegese praticamente, in parte norvegese. Quindi, i primi premi Nobel sono stati assegnati nel 1901 e ancora oggi, ogni anno, sono molto prestigiosi, anche perché chi li vince si becca quasi un milione di euro e quindi è molto ambito perché risolvi la tua vita in tutti i sensi, ok? 20 italiani hanno vinto il Nobel fino a oggi. Qui ci sono alcuni nomi per la letteratura. Dunque abbiamo il premio per la medicina, Camillo Golgi nel 1906. Per la letteratura vengono citati Carducci, Grazia Deledda, Eugenia Montale, Salvatore Quasimodo, Dario Fo e io aggiungerei Luigi Pirandello che non so perché qui non viene nominato. Poi, per la pace, Ernesto Teodoro Moneta, poi Fermi ed Eugenio Segre per la fisica, chimica, Giulio Natta, Renato Dulbecco e Rita Leo Montalcini per la medicina. Ogni volta che viene vinto, viene assegnato il Nobel, cioè sempre chi dice ah, ma no, era meglio quello, era meglio quell'altro. Soprattutto i Nobel per la pace hanno creato parecchie polemiche perché spesso venivano assegnati a dei capi di Stato che insomma avevano fatto qualcosa per la pace e due contro la pace probabilmente, per cui c'è sempre da ridire e vale un po' per tutti. Ok? Comunque questo ve lo leggete, approfondite la questione. Ora in poi, cos'è il premio Nobel? Lo sapete. Ecco Nobel, questo signore qua, qui, in questa medaglia che viene assegnata a chi vince il premio. Ma insomma, il premio sono questi bei soldini qui. Va bene? Allora ragazzi, chiudiamo qui con la Svezia e questo ovviamente credo vi diventa compito per le vacanze e a presto, arrivederci.